Signore noi ti dichiariamo sovrano su ogni situazione della nostra vita Signore, noi ti dichiariamo sovrano sulla situazione che l'Italia sta vivendo Signore e grazie a te Signore noi dichiariamo sconfitta ogni opera che il nemico sta pensando di attuare contro la tua Chiesa, contro il tuo popolo Signore, contro ogni persona Signore che abita l'Italia Signore. Noi Signore ti dichiariamo sovrano delle nostre vite Signore così ogni tempesta, ogni situazione possa essere cancellata nel nome di Gesù Signore. Ti ringraziamo per la presenza tua Signore, del tuo Santo Spirito, degli angeli Signore che ci hai mandato questa mattina in questo posto Signore. Ti ringraziamo Signore per come guidi Signore il culto che noi stiamo per offrire a te Signore. Benediciamo la vita del nostro pastore, del pastore Nico Signore, benediciamo il culto che tu hai messo nel suo cuore e dichiariamo che dalla sua bocca Signore possano uscire parole che edifichino Signore, che edifichino i nostri cuori Signore, che entrino, che facciano breccia Signore e che non vadano più via Signore. Ti ringraziamo per come continuerai a condurci Signore, per come continuerai a stare con noi nel nome di Gesù. Amen. Ok, senza dubbio adesso mi sentirete, vero? È la colpa del pastore, come sempre. Buona domenica a tutti, buona domenica a chi ci sta ascoltando, anche i fratelli che sono rimasti a casa, li salutiamo, li benediciamo. E quanti fratelli, amici, ci seguono ogni domenica, amen? Il titolo dello studio di oggi è alquanto provocatorio, vero? Vero? Ve lo siete mai chiesto? È provocatorio, ve lo siete chiesto? Avete visto la cartolina, giustamente, avete detto, ma come mai? Hai mai provato se Dio è buono? Ma che sta dicendo? Non ti è venuto in mente una cosa del genere? Ma mi ha messo un titolo provocatorio il pastore? No, non è provocatorio. È una domanda seria. La domanda è, ma davvero tu puoi approvare, hai visto che Dio è buono? Cioè, hai sperimentato che Dio è buono? Lo hai sperimentato, perché se non l'hai sperimentato, questo è il messaggio per te. Cioè, che Dio è buono, lo sanno tutti. Ma tu lo hai sperimentato? È come dire le orecchiette con le cimbi di lape, sono buone, ma le hai mangiate? No, lo dicono tutti che sono buone, ma le hai mai mangiate? Ora avete capito il senso. Andiamo subito alla parola del Signore. Ci sei Anna Maria? Nei salmi. Guardate cosa dice qui il salmista. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Provate. Sapete che significa provare? Datemi un sinonimo di provare. Testare. Testare. Constatare. Toccare con mano. Viverlo. Non vi suggerisco di mettere Dio alla prova, perché lo dice solo in una scrittura, in Malachia lo dice, mettetevi alla prova in questo, quando parla delle decime, quando Lui promette di scacciare l'insetto divoratore. E' l'unica volta in cui il Signore dice mettetemi alla prova. Non è un mettere alla prova, ma uno sperimentare con mano, come dire, tu vai davanti a una sorella e dici, ehi, ti posso garantire che Dio è buono. Perché la gente fuori, in tutta questa pandemia, non sta dicendo che Dio è buono, sta dicendo dove Dio. In chi non conosce il Signore, legge le scritture, dicono che il nostro Dio è un Dio cattivo, ha ucciso, ha sposto sangue. Allora, noi dobbiamo chiederle, ecco perché questo studio, andare fuori e dire, ma tu, l'hai provato sulla tua pelle se Dio è buono, oppure no? Brava Anna Maria, che è un po' ottusa come voce, ok. L'hai mai provato sulla tua pelle se davvero Dio è buono? Quanti vogliono gustare? Qualcuno ha usato il termine gustare Dio. Quanti di voi lo vogliono gustare? E' così. Per vedere se Dio è buono, lui va gustato. Chi l'ha detto? Promossa. Promossa al prossimo livello di scuola biblica. Andiamo a leggere cosa dice Pietro. Prima Pietro, capitolo 2, i versi che vanno dall'1 al 5. Quanti vogliono gustare che Dio è buono, la bontà di Dio? Alzate la mano, alzate la mano, il braccio dove è, puzza di meno però, un po' di compassione, per favore. Ok. Per poter gustare quanto Dio è buono, dobbiamo sbarazzarci. Dio alla persona che è accanto a te, sbarazzati. 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 Di che cosa? Di ogni cattiveria. Sembrava bello sto messaggio. Di ogni cattiveria. Di ogni cattiveria. Di ogni frode. Di ogni ipocrisia. Posso togliere la moscheria? Grazie. Tanto sono positivo, non ce l'ho il corpo. Ho fatto il tampone qualche giorno fa. Sbarazzati delle tue invidie. Di lato no, perché si vede la pancia. Sbarazzati di ogni maldicenza. Maldicenza. Sbarazzati di questo. Perché sennò non potrai gustare quanto Dio è buono. Se va bene, cosa dobbiamo fare? Leggiamolo. Come? Bambini appena nati. Come sono i bambini appena nati? Ingenui. Innocenti. Gridano. Senza malizia. Puri. Cosa vogliono i bambini appena nati? Due cose. Il letto e il latte. Quindi la mamma. Quindi mangiare e dormire. Mangiare e dormire. Non farò questo io anche con voi? Se nutro gli uccelli del cielo, i fiori del campo? Desiderate il puro latte spirituale. Qual è il puro latte spirituale? Perché con esso cresciate per la salvezza. Se davvero avete gustato che il Signore è buono. E adesso ti rifaccio la domanda. Hai gustato se il Signore è veramente buono? Perché se tu l'hai gustato, tutte quelle cose che abbiamo letto all'inizio non devono più far parte di te. Perché se fanno parte ancora di te, ti do una bella notizia. Tu il Signore non l'hai ancora gustato. Ma oggi è il giorno giusto, è il giorno buono che Dio ha stabilito per te. Affinché tu possa gustarlo, possa sperimentare quanto lui è buono. E allora qual è il consiglio che Pietro dà al versetto 4? Accostandovi a lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi. What? Noi pietre viventi? Ma non era Cristo la pietra angolare scappata dai costruttori? Perché non è pietra vivente? Dì la persona accanto a te, se non lo sai, sei pietra vivente. Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Andiamo nello specifico. Se davvero avete gustato che il Signore è buono, qual è incredibile incoraggiamento questa mattina, eh? Desidere il suo latte spirituale. Quale cosa migliore io ti possa dire stamattina? O quale cosa migliore lo Spirito Santo vuole convincerti di fare stamattina? Desidere il latte spirituale. La mattina, prima di accendere e mettere la mocha sul gas in ebraico, sai come si chiama mocha in ebraico? C'è la tera? Desidera il latte spirituale. Apri la parola di Dio, prima. Alle quattro, io e un'altra sorella, la mattina abbiamo già aperto la parola del Signore. Alle quattro, sai? Perché qua è il primo latte che deve entrare. E poi andrà il caffè, il mu, dopo. La congiunzione, se, quando dice se, davvero avete gustato, dice Pietro, quella congiunzione se, non esprime per niente un dubbio. Noi dobbiamo certamente avere la certezza di aver provato e visto che il Signore è buono. Se non l'hai provato, cosa aspetti? Devi avere la certezza, o sì o no. Forte. Il suo sacrificio per noi è stato un atto indescrivibile di amore. Lo sanno tutti che Gesù è morto. Lo sanno tutti che Gesù è morto per amore. Ma la domanda è sempre la stessa. Tu, quell'amore, l'hai provato? Non ne stai usufruendo? Oh oh! Ciò che dalla sua bontà abbiamo già gustato dovrebbe invogliarci ogni giorno a cibarsi solo ed esclusivamente di Lui. Perché se tu hai gustato che Dio è buono, tutto il resto non è buono. Lo lasci. Ma se tu ti cibi anche dell'altro, non solo di Dio, vuol dire che tu non hai gustato che Dio è buono. Cioè una volta che tu ti mangi le cibi di rappi con le arecchiette, tu vuoi cuore tutti i giorni. Il dolce sapore della sua avvicinanza dovrebbe solamente farci tremare alla semplice idea di allontanarci da Lui. Cioè a me è solo l'idea di stare lontano da Lui, come si dice mi prende il moto. Sto male. Sto male. Allora, se tu non hai provato che il Signore è buono, semplicemente ti allontanare da Lui. Sarà più facile allontanarti da Lui. Ma se tu hai sperimentato davvero che Dio è buono e che è stato buono con Lui, io ti posso dire che tu non lo lasci. Ti faccio una domanda. Hai mai buttato nell'immondizia qualcosa di buono? Hai mai abbandonato qualcosa di buono? Hai mai, come dire, buttato qualcosa di buono? Io una macchina, siccome è buona, la do. La butto, è buona. Io butto, tolgo quello che non è buono, quello che è vecchio, quello che ormai è esausto. Quindi avete compreso come le cose sono catenate? Se io mi allontano da Dio, vuol dire che non ho capito che Lui è buono. Per questo lo sto ricitando. Ma io potevo già entrare in modalità lockdown un giorno prima. Mi stavo a casa al caldo. Tito. Tito, capitolo 3, verso 4. Ma quando l'abbondanza di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini, sono stati manifestati. Non solo, dice qui la scrittura, accerta che Dio è buono, ma qui Tito conferma e dice, guarda che sono stati anche manifestati. Cioè l'abbondanza di Dio, se non l'hai provata, ti posso garantire che è stata manifestata. si sente che manca Michele, vero? Lui fa amen, alleluia, applausi. Voi siete tirchi invece? Le scorzoni, applausi. No a me, al Signore, eh. Cioè io ti dico che Lui ha manifestato la sua bontà e tu? La sua bontà è stata manifestata. Quasi a tutti. Aspetta a noi continuare a portare questa salvezza ad altri. Infatti il messaggio del Vangelo alla buona novella è una cosa buona. Tito lo dice, è manifestata. Quanti di voi sanno che Gesù è morto per amor tuo? Alza la mano, Dio lo so. Gesù è morto per me. Chi lo sa? Quanti invece hanno gustato di quella cosa? Sono sicuro che molte abbasseranno la mano. Comprendete? Vi sto spiegando? Vi ripeto il Salmo 34. Lo leggo solamente io. Lo leggo solamente io. Provate. Ed è questo l'incoraggiamento che ho. Lo leggo solamente io. Provate. E vedrete quanto il Signore è buono. Questo è l'incoraggiamento che ho da stamattina. Provalo. Ma a me non mi piacciono le cose verdi. Io non le cibi di rap e non le mangio. Ma mangio il chip drop. Che se te le mangi, poi tutto il Dio va e non le cibi di rap. Perché così è. Non mi piacciono le cose verdi. Quanti di voi hanno detto una cosa del genere? A me le verdure non mi piacciono. Poi se mangio le orecchiette, le cibi di rap. Le vanno tutti i giorni. Provate che il Signore è buono. Provatelo davvero. Adesso leggeremo insieme il Salmo 136. Tutto. Perché nel Salmo 136 esprime e si descrive per bene tutta la bondà di Dio. Ed è impossibile che dopo che io ti faccia questo elenco nel Salmo 136 tu non possa dopo questo mio messaggio metterti in ginocchio subito e dire ma ti voglio provare. Non è possibile. È come se io sto qui ti sto parlando che le orecchiette e le cibi di rap sono buone e tu non vedi l'ora di andare a casa e cucinarle o di trovarle in Giappone da qualche parte perché le vuoi provare subito. Non è possibile che io dopo che io vi spiega il Salmo 136 tu non debba provare immediatamente quando Dio è davvero buono. Salmo 136 dice Celebrate il Signore perché Egli è buono e la sua fedeltà dura in eterno. Vai avanti. Fino al verso 3. Celebrate il Dio degli dèi perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori perché la sua bontà fermati qua dura in eterno. Il grande all'al è qui. Ciò che rende unico questo Salmo è la forma in cui il salmista lo ha presentato. Vedremo nella seconda parte di ciascuno dei suoi 26-27 versi che contiene una risposta a tutto quello che abbiamo detto perché la sua bontà abbiamo già letto dura non è come il piatto di cimi di là perché finisce. Tu puoi stare a mangiare con lui 24 ore su 24. È una fonte inesauribile di bontà. Succulento. Dio la persona accanto a te se è un eterno non vi basta ecco che in questo Salmo ce ne sono 26 leggeremo 26 versi 26 caratteristiche di bontà di Dio non 26 caratteristiche 26 versetti di cui parlano delle caratteristiche di Dio questo componimento è noto il grande allel con la H davanti che si voleva cantare regolarmente nell'osservanza di una festa ebraica il Pesach e del Rosh Hashasha che sono rispettivamente la Pasqua e il Capodanno ebraico si cantava questo brano esso veniva altresì intonato durante l'adorazione quotidiana la bontà e la realtà e la fedeltà di Dio scrivitelo non vengono mai meno grazie Michele i primi tre versetti che cosa sono i primi tre versetti tu che sei studioso scrivi i primi tre versetti sono un invito all'adorazione l'introduzione che abbiamo letto è un'esortazione a celebrare il Signore per quel che Egli è e per la sua intrinseca bontà tu non celebri Dio perché ti dà qualcosa tu celebri Dio perché Lui è Dio è buono Egli è Yahweh nominate Yahweh agli ebri Egli è quel Dio che ha fatto il patto fino a mille generazioni e lo ha fatto anche con te lo sai se non lo sai Dio ha fatto un patto anche con te Egli è il Dio degli dèi lo abbiamo letto meraviglioso è superiore a tutte le potenze dell'universo Egli è il Signore dei signori sovrano di tutti coloro uomini angeli è sovrano su tutti coloro che hanno anche una posizione di comando Ma Egli non è solamente grande e quindi buono Lui è buono come creatore segnatelo Lui è buono come redentore Lui è buono come guida Lui è buono come campione Lui è buono come soccorritore Per questo Dio è buono Dio non è buono così in maniera lata del termine Dio è buono per tutte queste cose Adesso mi fai dal 4 al 9 Colui che solo opera grandi prodigi perché la sua bontà dura in eterno Colui che ha fatto con sapienza i cieli perché la sua bontà dura in eterno Colui che ha steso la terra sopra le acque perché la sua bontà dura in eterno Colui che ha fatto i grandi luminari perché la sua bontà dura in eterno Il sole per regnare sul giorno perché la sua bontà dura in eterno E la luna e le stelle per regnare sulla notte perché la sua bontà dura in eterno Amen Qui vediamo la bontà di Dio come Dio creatore la bontà e la misericordia di Dio sono visibili quante persone non credono che Dio è buono basta che tu gli fai vedere il sole, le stelle la luna quando gli fai vedere questi grandi prodigi della creazione con sapienza egli ha creato la meravigliosa distesa dei cieli ha dato la luce alla luce provate a immaginare queste enormi isole che galleggiano ha collocato delle lampade giganti nel cielo sapete d'estate quando c'è la luna piena e io rientro in macchina con mia moglie io amo quando sto in macchina io amo spegnere le luci della macchina non c'è nessuno sulla strada ovviamente è una strada diritta e con la luna si illumina si vede benissimo pensate la luna di notte tu provi a immaginare la luna di giorno il sole di giorno il sole per illuminare il giorno quando ti manca il sole com'è la tua giornata? è brutto quando non c'è il sole è vero quando hai queste giornate cupe sono importanti anche le piogge per carità è la luna e le stelle luci crepuscolari per le ore del riposo notturno dell'uomo dia alla persona che è accanto a te questa grande rivelazione che ho ricevuto adesso con Dio non verrà mai meno la luce perché Egli è luce di giorno avrai il sole e di notte avrai la luna e le stelle le tenebre non appartengono a Dio per questo Lui ha creato la luna luci crepuscolari per il sono ma sempre luce a me? grazie Michele adesso leggiamo dal 10 al 15 Dio Redentore colui che percorse gli egiziani nei loro primogeniti perché la sua bontà dura in eterno e fece uscire Israele di mezzo a loro perché la sua bontà dura in eterno con mano potente con braccio teso perché la sua bontà dura in eterno colui che divise nel Mar Rosso in due parti perché la sua bontà dura in eterno e fece passare Israele in mezzo ad esso perché la sua bontà dura in eterno e travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso perché la tua bontà dura in eterno quanti nemici hai? non nemici fatti di carne nostra quali li devi amare quando il nemico viene addosso ti viene a tormentare o vuole affossarti lì devi provare che Dio è buono il grande Redentore il grande Creatore è anche il potente Redentore della tua vita nei momenti più difficili nei momenti di deserto non deserto fatti di prova da Lui ma momenti difficili di vita Lui è il tuo Redentore e l'abbiamo detto è la sua bontà come Dio Redentore dura in eterno Lui non ti bellerà oggi Lui sarà per sempre il tuo Liberatore per questo Dio è buono lo hai provato? hai provato nei momenti di disagio di difficoltà ad alzare la mano al cielo e dire signore apri le acque vieni a liberare perché se non l'hai provato non puoi dire che Dio è buono nei momenti di angoscia non lo potrai dire né tantomeno potrai dire me la vedo io ne uscirò io e lì fu che ti affondasti per sempre come il Titanic il grande creatore e anche il potente Redentore per riscaldare il suo popolo l'abbiamo visto dalla tirannia d'Egitto Elie recise il fiore della gioventù egiziana e con mano potente prese il suo popolo e lo condusse verso la libertà la conosciamo la storia no? per far ciò Elie dovette fare cosa? dividere il Mar Rosso in due acque far passare il popolo di Israele e poi chiudere le acque e far morire cavalli e cavalieri l'esercito del faraone invece fu travolto e le acque tornarono al loro posto quella fu una memorabile manifestazione dell'amore fedele di Yahweh per il suo popolo questa è un'altra dimostrazione manifestata che Dio è buono puoi immaginare prova a immaginarti tu su un cavallo con Mosè che sta davanti prova a immaginarti e c'hai la montagna a destra la montagna a sinistra il mare di fronte gli egiziani dietro e non puoi andare da nessuna parte prova a immaginare Mosè e ma 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 che facciamo? lì babuzzi è entera dove andiamo? tu cosa, come ti senti lì? mamma in dalla mente Mosè mi sono messo tu cosa pensi? Mosè si è ricordato che il suo Dio era buono Mosè non si è fatto prendere da altri pensieri Mosè non si è fatto prendere dall'agitazione dalle emozioni Mosè è stato ubbidiente alla voce del Signore e il Signore cosa gli ha detto? la via di quella piccolo bastone buttalo nell'acqua questo è amore manifestato quanti di voi sono stati guariti amore manifestato? io ho provato che Dio è buono mi ha liberato da una malattia mi ha guarito da una malattia mi ha liberato dai demoni io ho provato che Dio è buono leggiamo il verso 16 solo il verso 16 colui che guidò il suo popolo attraverso il deserto perché la sua bontà dura in eterno chi è la tua guida? stai sperimentando che Dio è buono essendo lui la sua guida perché se la tua vita non sta andando come pensi vuol dire che non ti stai lasciando guidare da Dio e quindi non stai sperimentando che Dio è buono invece io questa mattina ti dico prendi la mano di Dio lasciati guidare da Lui e tu proverai e capirai che Lui è buono per 40 anni Dio guidò gli israeliti attraverso il vasto e arido deserto allora non esistevano deserti asfaltati è vero Magoggi non esistevano nemmeno cartelli non esistevano indicazioni non stava nemmeno l'amico fedele Tom Tom non c'era non c'erano Google Maps non c'era Siri c'era qualcosa di meraviglioso molto più preciso di Google Maps perché certe volte Google Maps ti porta nelle strade chiuse ma Dio no fai di Dio la tua guida e in un deserto senza mappe stradali senza cartine senza niente cosa fai tu? ma qui Giosuè aveva bisogno solo di una cosa della guida del Signore o anche a Mosè per il motivo che è stato 40 anni lui è la migliore guida interrogati come sta andando la tua vita? sta andando bene? se non sta andando bene tu fai una scelta questa mattina metti la tua vita nelle mani del Signore lasciati guidare da Lui e proverai che Lui è buono 17-22 Dio campione Dio che vince sopra ogni cosa colui che percorse re grandi perché la sua bontà dura in eterno guardatelo come è meraviglioso colui che uccise re potenti perché la sua bontà dura in eterno Sicon re degli Amorei perché la sua bontà dura in eterno Eog re di Basan perché la sua bontà dura in eterno e diede loro paesi in eredità perché la sua bontà dura in eterno in eredità Israele suo servo perché la sua bontà dura in eterno Dio è un Dio campione Dio è un Dio che combatte per te durante le battaglie cosa fai? lotti tu? o ti fermi e porti all'esistenza quel verso che dice io combatterò per voi e voi ve ne starete tranquilli stai facendo combattere Dio nelle tue situazioni difficili? contro i tuoi nemici sta combattendo Dio? contro il tuo peccato preferito lo sta facendo combattere Dio? perché se non stai facendo combattere Dio tu non puoi dire che Dio è buono non puoi provare e non puoi dire che Dio è buono comprendete il titolo provocatorio dello studio di oggi come è molto profondo? e a pensare che l'avevo solamente intravisto nel calendario di là c'era Nico e dicevo non so di che cosa parlare perché la tua bontà dura in eterno ho capito da lì sono partito 23-25 fino alla fine no 26 è l'ultimo è un Dio soccorritore salvatore e sostentatore il salmista lo leggiamo colui che è la nostra umiliazione si ricordò di noi perché la sua bontà dura in eterno che ci ha liberati dai nostri nemici perché la sua bontà dura in eterno colui che ci dà cibo che dà cibo a ogni creatura perché la sua bontà dura in eterno celebrati il Dio del cielo perché la sua bontà dura in eterno finito? 25? ah ok vabbè era fino al 25 il salmista esalta Yahweh narrando le opere che si addicono a questo meraviglioso soccorritore a chi chiede soccorso a chi chiede aiuto ti sei reso conto che hai bisogno di un salvatore chi è il tuo salvatore? io o Dio? o la mamma e papà? Dio si ricordò dei figli di Israele quando erano un popolo indifeso oppresso Dio li ha liberati dalle grinfie dei nemici Dio non manca mai di provvedere il cibo al dono di sua creatura quanti possono dire che nonostante un anno pieno di pandemia è una sua bontà che non siamo stati completamente distrutti quanti lo possono dire? quanti possono dire nonostante crisi e tutte quelle cose negative io durante la pandemia posso dire sono positivo non di covid sono positivo perché il mio Dio è buono 26 grazie zia meno male sono sempre Michele ogni tanto c'è la zia 26 lo rileggiamo celebrate il Dio del cielo perché la sua bontà dura in eterno il Dio del cielo se avessimo se avessimo ascolta bene adesso quello che ti sto dicendo se avessimo la costante consapevolezza della grandezza e dell'infinita bontà di questo Dio che diamo troppo spesso per scontato noi lo lo dobbiamo di più lo ripeto se noi siamo costanti e siamo consapevoli che il nostro Dio è davvero grande e che la sua bontà è dura in eterno davvero noi non finiremo mai di lodarlo mai mai via la persona che è accanto a te sto arrivando alla conclusione come nella natura da capo non mi piace come nella natura dell'acqua è essere bagnata o del fuoco essere caldo è nella natura di Dio essere buono è nel suo DNA essere buono ringraziamo il Signore che nella sua bontà ci preserva nella salvezza noi possiamo anche abbandonare a volte dei progetti intrapresi ma Dio non ha mai ma Dio non abbandonerà mai i progetti che ha per noi mai Dio non abbandonerà mai il progetto che ha per te mai quando Lui inizia un'opera dice la scrittura la porta a compimento Dio non permetterà che ci perdiamo per strada lo sai o no? tutte le volte che tu sei scappato uscito lo sai perché sei ancora qui? perché è Dio che ti cerca è Dio che non permette che tu ti perdi è così quindi non solo Dio ci ha salvato per grazia ma fare in modo che non perdiamo mai questa salvezza allora se siamo veri cristiani dobbiamo essere riconoscenti a Dio per il dono della salvezza e questo è un altro motivo perché Dio è buono ci ha dato un dono mio papà è buono perché mi regala sempre le cose che mi piacciono quando uno ti regala qualcosa quella persona è buona quando qualcuno ti fa qualcosa di meritato quella persona è buona inoltre dobbiamo essere riconoscenti a Dio per un altro dono quale? quello della salvezza secondo c'è un altro dono che Dio ci ha fatto ne ho parlato ultimamente il dono Dello? ti sei mai immaginato senza lo spirito santo? mio Dio no ti prego no non lo voglio nemmeno pensare noi senza lo spirito santo non saremo in grado di vivere una vita cristiana noi senza lo spirito santo non siamo non saremo in grado di vivere una vita cristiana impossibile perché è lui che ci convince che stiamo sbagliando infine noi siamo chiamati a essere riconoscenti a Dio per il dono del servizio cristiano Dio ci dà il privilegio di servirlo lo volete comprendere? Dio ci dà il privilegio di partecipare al progresso del suo regno all'avanzamento del suo regno il suo regno avanza se ci sono i suoi figli che lavorano per lui comprendete perché Giacomo dice nella sua lettera io non l'ho messo perché l'abbiamo ripetuto molto spesso questo verso ogni cosa buona viene dall'alto viene dal cielo ogni cosa buona viene da Dio perché Dio è buono ogni cosa buona viene da Dio e ciò che abbiamo di buono è un dono di Dio quando noi leggiamo ogni cosa buona viene da Dio è tradotto con il termine agatos che si riferisce a qualcosa di utile di salutare a un beneficio per il nostro vantaggio Dio ci dà ogni cosa buona per il nostro vantaggio la domanda è e se non ce la dà è per il nostro vantaggio lo stesso è per il nostro benessere Dio non dà quando Dio non dà non è perché non è cattivo è perché ti sta preservando o perché ti vuole dare qualcosa migliore di quella che tu gli stai chiedendo quindi Dio non ci darà tutto quello che desideriamo Dio non ci darà tutto quello che desideriamo Dio non ci darà tutto quello che gli preghiamo ma Dio ci darà tutto quello che è utile per te per me come fa un buon padre di famiglia Dio ti darà quello che ti è utile concludiamo Matteo 7 chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa qual è l'uomo tra di voi questo è il giovane ricco il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano non è E' buono, provatelo, chiedete, domandate. Avete una serie di caratteristiche per il quale chiamare in causa Dio e vedere con i propri occhi, con la propria pelle, che Dio è buono. Amen? Facciamo un applauso al nostro Dio che è buono. Facciamo metterci in piedi. Alleluia. Vogliamo mettere un sfondo, Nico. E vogliamo pregare, vogliamo ringraziare perché Lui è buono. Nei momenti di pressione, lì aumenta l'unzione. Quindi Dio può usare anche un computer per farti venire la nervatura o farti avere tanta tipo l'unzione. E' buono. No.